Salve a tutti, controllo che sta registrando, sì. Allora, dopo faccio un breve aggiornamento, ai primi giorni del concorso straordinario si è presentato circa l'88% dei docenti e i docenti che hanno seguito questi video mi hanno contattato, mi hanno riferito, mi hanno ringraziato e mi hanno riferito che, come ho detto in tutti i video finora, che bisogna tenere assolutamente in considerazione le prove del 2016. Ossia, il carattere di questo concorso è stato sia nozionistico che didattico metodologico, anche in funzione di tante valutazioni, già dai criteri di valutazione, dalle griglie di valutazione che vi ho pubblicato e vi ho commentato, potete capire come in parte saranno programmati questi siti sia relativamente alla classe di concorso che relativamente all'inglese. In ogni caso, quello che vi potete aspettare è che, che ne so, di utilizzare una determinata metodologia didattica per una determinata unità didattica di apprendimento piuttosto che in presenza dell'unno BES piuttosto, o io lo uso come, siccome è nato, è anche divertente, è nata una piccola discussione sul piuttosto che, io lo uso come frase avversativa, quindi o l'uno o l'altro. Sono uscite, insomma, questioni relative alla valutazione degli studenti, anche il recupero dei debiti formativi, anche il potenziamento di una classe, cioè tutto quello che, insomma, già abbiamo visto e che stiamo vedendo, perché voi giorno per giorno mi chiedete di fare nuovi video. Allora, per ora io, siccome sono in ritardo con la pubblicazione di video, perché comunque sicuramente anch'io lavoro e non ho proprio tanto tempo per creare questi nuovi materiali, ovviamente adesso è sabato, l'ora di pranzo, ho chiesto a mia moglie di pranzare un po' più tardi, così ne approfitto per inserire qualche nuovo argomento. Però, ovviamente, sappiate che anch'io, magari voi lavorate a scuola e vi preparate per il concorso. Io anche, insomma, ho il mio lavoro all'università, il mio lavoro di ricerca e quando posso, insomma, inserisco sempre del materiale per condividere, insomma, anche le mie esperienze, per condividere quello che so e che fortunatamente è stato di aiuto ai vostri colleghi, spero lo sarà sempre per più persone. Allora, valutazione degli apprendimenti e, per esempio, è anche importante parlare delle assenze a scuola, soprattutto adesso che è possibile che andremo di nuovo in didattica a distanza. Abbiamo parlato anche delle forme di didattica a distanza, della didattica integrata e di tante questioni che sono assolutamente attuali. Allora, per quanto riguarda la valutazione e un minimo di legislazione, allora, la valutazione viene regolata dall'articolo 4 del DPR 122 del 2009, scusate, e si integra col decreto legislativo del 62 del 2017. e in questa maniera è organizzata praticamente se volete andarvi a vedere insomma gli articoli andrete a vedere la riorganizzazione della normativa sulla valutazione dello studente sugli esami di stato. Allora, la valutazione che è uno strumento sicuramente utile sia ai docenti che ai discenti deve essere periodica e anche finale e finale. Ovviamente si riferisce anche agli apprendimenti. È effettuata dal consiglio di classe, ricordate, vedrò, il singolo docente, il singolo professore porta una proposta di voto poi il consiglio di classe che lo approva. Il consiglio di classe viene presiduto o dal dirigente scolastico o il più delle volte da un suo delegato. Quando ci sono i consigli di classe ovviamente il dirigente scolastico non può essere presente contemporaneamente in tutti i consigli. Allora, qualora ci dovesse essere uno scontro sul voto da dare allo studente si va a votazione e ove questo cioè la votazione tutti vi diranno che a maggioranza però può anche esistere un caso di parità nel caso solo nel caso di parità per uscire fuori insomma da questo problema si è pensato anche quindi al caso della parità il voto del dirigente scolastico o di chi insomma ne fa le veci quindi del suo delegato vale doppio ma solo in caso di maggioranza altrimenti il voto del dirigente scolastico vale sempre uno non so quanti di voi magari sapevano questa cosa se vi viene chiesto qualcosa in merito qualcosa al concorso in merito a questo assolutamente potete dirlo quindi vale doppio il voto del dirigente scolastico in caso di parità bisogna vedere magari tutti gli aspetti anche più strani i docenti di sostegno quindi i contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno essi si esprimono con un unico voto poi per poter valutare lo studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario se le assenze superano questo limite quindi se le assenze assenze maggiori del 75% dell'intero monte ore dell'anno lo studente viene escluso dallo scrutino finale con conseguenza non ha missione alla classe successiva o all'esame finale ovviamente questo che vi sto dicendo va preso con le pinze perché ad esempio uno studente in casi estremamente gravi con permessi speciali e particolari firmati dai medici ovviamente quindi vedere casi particolari vi scrivo qua vedere casi particolari perché ovviamente quello che vi dico tutto quello che vi dico cerca di darvi delle di orientarvi insomma in casi generali però poi ovviamente nella scuola come nella vita si deve poi spesso ragionare con il particolare si può dire che spesso ci accadono eventi magari inaspettati spesso dobbiamo risolvere situazioni inaspettate anzi per tutti coloro che mi hanno detto che si sentono un pochettino giù non sanno non hanno motivazione non sanno che pesci prendere io vi dico che è del tutto normale avere degli alti e dei bassi bisogna vi consiglio di risettare un pochettino il vostro cervello di scaricarvi di vedere comunque questo concorso come un'opportunità se si vince bene se non si vince non muore nessuno ritornando a noi il collegio quindi dei docenti può anche consentire in casi eccezionali delle deroghe ai limiti dei tre quarti di presenza del montore annuale e ci sono dei possono esserci quindi dei casi particolari sono ammessi la classe successiva tutti gli allunni che in sede di scordino finale conseguono un voto di comportamento non inferiori a sei decimi quindi il comportamento quindi il voto in condotta deve essere maggiore di sei prima si bocciavano con il sette in condotta adesso non più nello scordino finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli allunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline quindi quando questo avviene quando si dà un debito formativo quindi ci può essere la sospensione del giudizio poi a conclusione dello scrutinio l'esito relativo a tutte le discipline comunicato alle famiglie dopodiché solitamente il debito formativo dovrebbe essere recuperato entro l'anno scolastico cioè mi spiego se l'anno scolastico 2019-2020 il debito formativo andrebbe recuperato entro il 31 agosto del 2020 alcune scuole lo recuperano anche a settembre del 2020 ciò non è del tutto diciamo tra virgolette corretto però spesso capita che i debiti formativi si recuperano anche nel mese di settembre che fa parte in realtà del nuovo anno scolastico quindi relativamente al recupero dei debiti formativi di formativi ci sono delle norme normative delle leggi tra cui la legge del numero 352 del 1995 di solito quindi questa legge che cosa dice in sostanza che devono essere attuati dei corsi di sostegno di recupero delle carenze quindi il recupero dei debiti e questi recuperi dei debiti vengono più propriamente detti idei che sono interventi didattici educativi integrativi interventi didattici educativi integrativi quindi parliamo sempre del recupero le scuole organizzano dopo gli scrutini intermedi interventi didattici educativi di recupero scuole organizzano idee e competenze del consiglio di classe decidere come organizzare questi corsi di recupero il consiglio di classe vara gli interventi di recupero benissimo dopo il corso di recupero gli studenti devono affrontare delle verifiche intermedie quindi verifiche intermedie a dimostrazione di aver superato il debito quindi all'esito degli scrutini di fine anno il consiglio di classe comunica alle famiglie le carenze scolastiche degli studenti che abbiano riportato i voti insufficienti in una o più materie rimandando la decisione di promuoverli a dopo il 31 agosto a dopo il 31 agosto è la decisione di promuoverli in occasione della verifica finale quindi dopo lo scrutino finale la scuola organizza ulteriori dovrebbe almeno organizzare corsi di recupero che si svolgono solitamente dopo l'estate ecco come vi dicevo prima entro il 31 agosto di ogni anno si concludono le iniziative di recupero e subito dopo ma non oltre la data di inizio dell'elezione dell'anno successivo si effettuano le verifiche finali sulla base delle quali si conclude lo scrutino con il giudizio definitivo promazione o bocciatura in realtà tali verifiche dovrebbero essere fatte entro il 31 agosto lo scrivo qua entro 31 08 e non più cioè non oltre ovviamente l'inizio del nuovo anno scolastio quindi molte scuole diciamo lo fanno anche a settembre però prima del nuovo anno scolastico ve lo scrivo AA tanto prenderete pure voi un pochettino di nimistichezza con queste punteggiature insomma per scrivere prima per ciò che concerne lo scrutino di esami di recupero il consiglio di classe deve obbligatoriamente mantenere la medesima composizione di quello che ha proceduto all'operazione di scrutinio di fine anno questo lo decreta la legge l'ordine ministerale 92 2007 poi che altro dire per la valutazione del comportamento o anche la valutazione del comportamento deve essere la valutazione del comportamento deve essere periodica e la valutazione anche la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici quindi la valutazione di tutte le materie più la valutazione del comportamento quindi voto di materie più comportamento determina che cosa i crediti scolastici ovviamente la valutazione del comportamento con voto inferiore a sedecimi in serie di scrutino finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo e può essere decisa dal consiglio di classe solo nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente erogata una sanzione disciplinare quindi assolutamente non si può dare il 5 o il 4 in condotta se non ci sono sanzioni disciplinare quindi la valutazione del comportamento con voto inferiore a sedecimi deve essere motivato e deve essere verbalizzato in serie di scolino intermedio e finale ovviamente i crediti scolastici si sommano e vanno a creare un punteggio riconosciuto agli alunni in base al merito all'andamento degli anni durante il triennio della scuola secondaria di secondo grado quindi mi raccomando per quanto riguarda i crediti si è davo per scontato do per assodato che sto parlando della scuola secondaria di secondo grado questo punteggio viene sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte orali alla fine della determinazione del voto di maturità io con questo vi saluto vi auguro sicuramente di continuare a prepararvi al meglio vi auguro per coloro che hanno imminente insomma le prove del concorso straordinario di non perdersi d'animo di studiare di prepararsi di andare prepararsi anche psicologicamente di andare determinati e di vedere tutto ciò come una mera e sola opportunità si parla insomma tanto del fatto che è una situazione ambigua quella che c'è adesso io sono completamente d'accordo con voi è assurdo che i docenti che prendono il covid magari anche durante le ore di lavoro poi sono esclusi dal concorso e non sono previste prove suppletive il ministro ha risposto che anche per il concorso di medicina è stato fatto così però sicuramente la situazione di settembre non è comparabile alla situazione odierna cioè la selezione non può essere fatta in base a chi sta bene a chi sta male non mi sembra un qualcosa di ragionevole va tenuto sicuramente conto che il ministro Azzolina ha dei meriti quali per esempio l'aver in questo periodo riaperto le graduatorie quale per esempio anche l'aver cercato di riaprire le scuole l'aver cercato di fare tutti questi concorsi però sicuramente poi magari poteva essere tutto cioè secondo me se questo coronavirus non avesse raggiunto questi livelli sarebbe stato tutto fantastico quindi non voglio assolutamente dire che il nostro ministro dell'istruzione ha agito in termini assoluti in maniera negativa anzi per la scuola vi ricordo che prima del 2012 che c'è stato insomma il famoso concorso profumo ai tempi di Monti abbiamo avuto per oltre dieci anni nessun concorso non abbiamo avuto alcun concorso il fatto insomma che il nostro ministro stia provvedendo a fare tutti questi concorsi pubblici è una cosa obiettivamente positiva poi vanno viste tutte le situazioni a contorno però non voglio entrare troppo nel dettaglio diciamo che una mia idea ve la siete fatta ma in linea di massima i nostri i nostri video diciamo sì sicuramente trattano anche della società e della politica ma in maniera ridotta per ora ci stiamo focalizzando soprattutto per la preparazione a concorso io con questo vi saluto e vi auguro di nuovo buona giornata grazie